Il nostro incontro preliminare, infatti come abbiamo detto, è sicuramente un argomento da approfondire, importante è appunto creare un collegamento, perché abbiamo necessità e bisogno, come ha detto lei prima di altri interventi precedenti, di questo ponte, quindi di guardare anche al di là di quello che è poi la nostra realtà e anche avere lo stimolo per poter poi investire, per poter guardare appunto lontano. Sicuramente le istituzioni hanno un ruolo molto importantissimo e fondamentale, su quello non ci piove. Sicuramente questi ultimi anni non sono stati molto facili per nessuno, quindi insomma l'auspicio è quello appunto di cominciare da ora magari a collaborare, magari a cominciare a parlare, ecco, e cominciare appunto ad interessarci di queste prospettive, di questa prospettiva, sicuramente sì, e questa è un'occasione, infatti quando abbiamo parlato prima bisogna accogliere queste occasioni perché sono uniche e ringraziamo ancora una volta per averle proprio consentite, insomma, in questa sede. Grazie. Facciamo un tavolo tecnico, ecco. Magari.